L'approccio Food for Sustainability passa tendenzialmente attraverso delle azioni che debbano andare a impattare su tre variabili fondamentali l'efficienza, la qualità e la prossimità. Questo richiede un'azione, un nuovo paradigma dei produttori e dei consumatori che dovrebbero praticamente applicare tutti i principi dell'economia circolare. Per andare in questa direzione diventa fondamentale una nuova politica agricola comunitaria e politiche regionali di valorizzazione territoriale.